Buonasera a tutti, scusate per il ritardo nell'inizio dell'evento, mi rivolgo in particolare alle persone che ci seguono da casa, che qui la sala è abbastanza gremita e le persone ne hanno approfittato per cominciare a parlare, quindi l'attesa è stata sicuramente più piacevole. Sono Davide Baventore, il vicepresidente dell'Ordine, mi fa piacere dare il mio benvenuto a tutti i partecipanti, è un piacere avere un panel di relatori così di spessore questa sera, è così interessante e ci tengo un po' a sottolineare che mi sembra che questo evento per la cui realizzazione devo ringraziare diverse persone, a cominciare dalla professoressa Bertani che è qui di fianco a me, che è anche coordinatrice della Commissione Deontologica dell'Ordine, mi sembra particolarmente in linea un po' con la missione che come Ordine degli Psicologi ci siamo dati, di cercare nel nostro piccolo di rispondere un po' alla missione sociale della professione che è anche quella di aiutare le persone a navigare il reale con un maggior grado di consapevolezza, di capacità di lettura ed è una cosa a proposito di codice deontologico che il nostro codice afferma con molta chiarezza che lo psicologo di questo obiettivo ne fa una missione, un'identità professionale, quella di conoscere il comportamento umano e aiutare le persone a capire meglio se stessi, capire meglio gli altri e fare scelte più consapevole, più consapevoli, congrue ed efficaci. Per cui si tratta, mi sembra proprio di quel tipo di approfondimento che restituisce anche a chi psicologo non è una misura del contributo che in generale le scienze psicologiche cercano di dare concretamente anche alla gestione di una complessità che credo tutti ci rendiamo conto, soprattutto in periodi così difficili, incerti, può essere un po' difficile da maneggiare. Per cui grazie a tutti per aver avuto la bella idea di realizzare un evento come questo e passo la parola a questo punto a Barbara Bertani, di cui ho dimenticato di dire che è professoressa di Psicologia del Lavoro delle Organizzazioni presso l'Università Cattolica. Grazie Davide, mi ha già presentato Davide, quindi io non ruberei altro tempo a questo come diceva appunto il Vicepresidente Panna e di relatori di cui sono molto contenta di essere qui al tavolo con loro, ma non solo al tavolo, anche successivamente, quindi ringrazio Riccardo Zuffo che comunque ha dato vita a questo momento che credo che sia molto importante per tutti. Devo dire che sono molto emozionata perché credo che quando così preparavo questa piccola introduzione pensavo proprio alla parola guerra e quindi pensavo anche che quando si parla di guerra poi si ricorre a tutta una serie di narrazioni, di parole e anche di immagini che non possono lasciarci in qualche modo e non suscitare in noi delle emozioni, di sofferenza, di tristezza. Devo dire che però anche mentre così riflettevo su questa serata pensavo che forse un elemento molto importante prima di arrivare a questa drammaticità della guerra sia come dire un importante elemento che per noi psicologi è importante, interessante, che è la capacità di prendersi cura delle relazioni. Io sono in particolare psicologa del lavoro e delle organizzazioni e in questo momento sento che c'è una grossa fatica nelle persone, nei gruppi, nelle organizzazioni, nelle istituzioni a proprio fare attenzione a questo prendersi cura dell'altro e credo che questo invece sia molto importante per riuscire a mettere in atto anche delle dinamiche di riflessione preventiva di prevenzione rispetto a quello che poi ci si trova invece tra le mani e nella vista e nelle immagini che vediamo a scorrere anche nei mass media e che effettivamente è un processo che a questo punto è molto avanzato e diventa molto difficile tornare indietro. In questa serata ci accompagneranno dei professionisti di grande spessore. Io partirei da Gad Lerner, giornalista, scrittore, mi viene da dire, che credo ci darà uno sguardo proprio in quanto giornalista dell'importanza anche della comunicazione all'interno di eventi di questo tipo. Quindi in questo senso Davide Valventori richiamava la responsabilità del nostro codice, della nostra professione, mi veniva anche da pensare che sicuramente la figura professionale del giornalista ha anche una grossa responsabilità in termini di comunicazione pubblica rispetto a certe situazioni e a certi eventi. Quindi nel ringraziarlo tantissimo di questa sua presenza che sicuramente darà vivacità e animosità riflessiva a questo nostro incontro, passo a un altro personaggio, mi viene da dire maestro, permettetemi, che è Romano Musumarra. Dico maestro perché è compositore, arrangiatore e credo che lui ci porterà come professionista invece un altro aspetto, che è quello secondo me dell'arte e che è la parte emotiva perché io credo che solo l'arte possa anche suscitare in noi tutta una serie di emozioni e stasera avremo modo tra l'altro di sentire un corto composto da lui che più tardi sentiremo e che forse ci porterà dentro anche sul piano emotivo a quello che sono delle sensazioni e delle emozioni che ripeto un brano musicale può regalarci. Adesso però partiremo da tre colleghi che io ringrazio di essere qua con noi. Tre colleghi, partirà Diego Mishosha che è uno psicologo, psicoterapeuta, formatore e uno dei soci fondatori dell'Istituto Minotauro che ci introdurrà anche a una presentazione del Minotauro, seguirà poi Elena Nascimbene, psicosocialista, Elena nel direttivo di Ariele ed è direttore di Polis e poi Riccardo Zuffo che invece ci porterà nella storia anche in un psicologo socio di Ariele, professore di università quali cattolica Bicocca e anche l'università di Chieti che ci racconterà e ci porterà invece una visione anche più storica di certe situazioni e di certi eventi. Ecco io credo che questi tre colleghi per noi siano molto importanti perché appunto come psicologi noi abbiamo la parola come mezzo anche di comunicazione e come narrazione di evento ma abbiamo anche come diceva Davide questa mission di rendere comprensibili forse dei fenomeni che data la complessità che portano con sé possono essere veramente importanti. Io ringrazio la presenza sia di tutti i presenti ma ricordo anche tutte e tutte i cittadini e le cittadine presenti perché ha aperto al pubblico questa serata e gli iscritti e le iscritte che in questo momento ci seguono da casa e quindi sentiamo anche col calore della loro presenza. Lascio la parola a questo punto a Diego Umi Scioscia. Io ricorderei anche che chi ci segue da remoto può fare domande giusto? Due parole per presentare l'istituto Minotaro anche perché poi dopo invece terò una comunicazione un pochino più lunga per spiegare un po' quello che abbiamo anche dibattuto all'interno del gruppo Poli cioè le tematiche sulle cause delle guerre ma soprattutto che poi il tema forse di maggior interesse secondo me della serata cosa la psicologia può fare per creare una cultura di pace. L'istituto Minotaro è abbastanza conosciuto a Milano è una cooperativa sociale, una fondazione, il suo nome completo è Minotaro Istituto di Analisi dei Codici Affettivi e questo sottotitolo ha molto a che fare con il tema della pace di cui ci occuperemo oggi. Il Minotaro nasce nel 1984 da un gruppo di giovani psicologi che lavoravano insieme a Franco Fornari l'istituto di psicologia con Franco Fornari e con altri due maestri che erano Laura Fontori e Gustavo Pietro Polli-Cermin. E nasce proprio sulla base degli studi che Fornari faceva in quegli anni perché Fornari aveva scritto nel 1966 un libro importantissimo, Psicanalisi della guerra un libro che aveva avuto un grande successo a livello internazionale tanto che le Nazioni Unite l'avevano chiamato chiedendogli di portare avanti questi studi sulla pace e aveva in programma di fatti Fornari di aprire su incarico delle Nazioni Unite un'Università della pace a Milano e già nell'83 avevamo avviato un programma col provveditorato agli studi di Milano per formare i referenti alla pace nelle scuole superiori. Purtroppo il progetto è morto insieme a Fornari che nell'84 prematuramente è scomparso. Però diciamo l'istituto Minotauro come poi vedremo anche a Riele che fa riferimento a un collaboratore amico di Fornari che era Gino Pagliarani ha portato avanti i suoi studi istituzionali come vedremo anche dopo e importante però appunto nella ricerca di Fornari è un altro testo che è meno conosciuto Psicanalisi della guerra forse è quello più diffuso in un centinaio di lingue nel mondo ed è stato ripubblicato anche a gennaio qui in Italia con la prefazione di Massimo Recalcati però Fornari aveva scritto questo testo che poi è quello un po' alla base della nascita del Minotauro che è il Minotauro Psicanalisi dell'ideologia nel 1977 qui per la prima volta Fornari dopo aver un po' esplorato le cause della guerra si spinge un po' oltre secondo me cercando di mettere a fuoco quelle che sono le dinamiche intrapsichiche che possono portare verso l'idea della pace perché lui analizzando in questo testo la trascrizione di un consiglio di classe in una scuola superiore in cui c'erano quindi tutti gli insegnanti i rappresentanti dei genitori e degli studenti si sofferma a ragionare sulle logiche affettive con cui i vari personaggi esprimevano i loro punti di vista o prendevano decisioni da qui nascerà la teoria dei codici affettivi che in qualche modo prende aspetti che la psicologia aveva già trattato o in mente ad esempio la ricerca di bio sugli assunti di base però Fornari sviluppa questo tema parlando dei codici affettivi cioè di come vengono chiamati oggi anche la ricerca delle neuroscienze dei sistemi motivazionali di base genetica lui li definisce codici affettivi riferendogli ai personaggi della famiglia codice materno, paterno, fraterno, codice del bambino e codici erotemici, maschile e femminile che veicolano una logica affettiva quindi delle prescrizioni già iscritti dentro di noi come una sorta di programma affettivo e quindi di sistema etico, di legge naturale che possono presentarsi una forma integrata già qui c'è un'idea di cultura di pace quella che lui definisce la democrazia affettiva però spesso nelle vicende umane soprattutto nelle vicende istituzionali si presenta in una forma non integrata ma radicalizzata addirittura a volte ecco, sulla base di questi studi fornare il fondo al Minotauro con l'idea di sviluppare poi gli studi sulle istituzioni cosa che viene fatta dal Minotauro nei primi anni il Minotauro nei primi anni lavora con importanti istituzioni con gli ospedali, il primo testo collettivo è quello curato da Gustavo Schermet intitolato la democrazia degli affetti psicanalisi in ospedale poi dopo lavoreremo con la psichiatria ma anche con aziende, con diverse istituzioni ma poi sotto la guida di Schermet il Minotauro è come se si fosse dedicato negli ultimi decenni più agli studi delle dinamiche intrapsichiche in particolare dell'adolescenza proprio per mettere a fuoco come viene definito non solo dalla famiglia o dall'adolescente stesso ma anche dalla società il vero sé come viene messo a fuoco in fondo l'identità di chi cresce però abbiamo mantenuto sempre un interesse per le dinamiche istituzionali mentre i soci di Ariere a me sembra col gruppo Polis con cui ho iniziato a collaborare da alcuni mesi hanno portato avanti un po' di più l'aspetto istituzionale adesso ce ne parlerà Elena Nascin bene Salve se permettete io volevo anche raccontarvi un attimo come è nata questa serata l'incontro di questa sera è nato in novembre al convegno promosso da Ariere dedicato a celebrare il centenario della nascita di Pagliarani che Diego vi ha appena nominato che è il fondatore di Ariere della nostra associazione uno dei temi che fu trattato allora fu il tema della guerra e Ariere invitò a discutere di questo tema i colleghi del Minotavoro a quel convegno erano presenti anche molti di noi che questa sera sono qua soci di Ariere e non soci ma interessati ai temi della Polis e che da molti anni studiano questo tema un gruppo di studio e di ricerca da anni su vari temi e da quando è scoppiato questa guerra in particolare abbiamo voluto e dovuto occuparci del tema della guerra in Ucraina quando abbiamo ascoltato Diego Misciocia al convegno abbiamo pensato di chiedergli se voleva venire a studiare con noi a approfondire questo tema che tanto ci preoccupa e ci angoscia e da allora abbiamo fatto un po' di strada insieme ed è per quello che siamo qua questa sera a parlarne con voi dico due parole su Ariere ma davvero due fondata 40 anni fa da Pagliarani appunto per approfondire, valorizzare e diffondere esperienze realizzate secondo l'approccio psicosocioanalitico in campo formativo, clinico e di sviluppo delle istituzioni e delle persone ci occupiamo essenzialmente di funzionamento dei gruppi relazioni organizzative ma anche ruolo e della gestione del conflitto le ricerche che si fanno nell'associazione sono sintetizzate in una rivista che io ho portato in omaggio che è la rivista Educazione Sentimentale che è un semestrale che viene mandato ai soci in abbonamento ma veniamo al tema di questa sera che ci convoca qui e desideravo dirvi che per noi di Ariele quando parliamo di guerra, di pace in realtà le parole sono tre per noi le parole sono pace, guerra e conflitto spesso si usa conflitto al posto di guerra ma non è così ma non è così perché per noi conflitto non è una brutta parola mentre guerra è una brutta parola perché come diceva Pagliarani lo sentirete nominare un po' perché questo fondatore ha avuto un pensiero che è molto presente nell'associazione oggi perché sono stati dei pionieri a studiare questo tema qua diceva Pagliarani la pace non è pacifica e questo credo che sia molto chiaro e molto eloquente questo modo di dire nel senso che la pace come stiamo sperimentando noi non è data è un punto di arrivo e per costruire la pace occorre elaborare un conflitto questo è un concetto che per noi psico è proprio molto molto fondamentale questo riguarda come dicevano prima i colleghi riguarda le relazioni personali le relazioni interpersonali e le relazioni globali ora parliamo di guerra in Ucraina e ci troviamo noi europei ad assistere a una guerra che forse non ci aspettavamo alle porte di casa o come la chiama Putin un'operazione speciale quando il 24 febbraio 2022 come sappiamo diede inizio a questa offensiva militare ma che era iniziata da prima citava Diego Mesosha prima questo nostro gruppo di studio abbiamo letto tantissimo su questo tema che ci tormenta abbiamo cercato di studiare anche un po' il concetto di pace appunto che dicevo la pace non è pacifica e avendo letto avendo studiato vari testi di psicoanalisi ma non solo anche di letteratura ci siamo come dire anche un po' sbizzarriti a fare una specie di elenco dei possibili tipi di pace perché tutti parlano di pace ma ce ne sono tanti io me ne sono segnata qualcuno è un elenco breve ma ognuno di voi potrebbe allungarlo c'è la pace vittoriosa c'è la pace giusta c'è la pace che garantisce gli interessi questo abbiamo letto poi per esempio secondo la definizione di Macron che ha avuto un ruolo di tessitura diplomatica forte e si è molto espresso lui parla di pace e duratura però abbiamo visto anche che può esserci la pace della resa c'è una nostra collega che poi magari interverrà del gruppo che è andata a Leopoli a portare un pensiero come dire con delle domande con dei punti interrogativi si è sentita dire che forse portava avanti una pace della resa poi c'è la pace proibita di cui parla il giornalista Michele Santoro e poi c'è per esempio la pace preventiva che abbiamo visto alla mostra dell'artista Pistoletto potrei andare avanti ma io credo che ognuno di voi può aggiungere di aver sentito definizioni di vari tipi di pace ma di fatto che non c'è per ora ed è un traguardo molto lontano ahimè in questo gruppo ci siamo fatti soprattutto tante domande e abbiamo ripreso a farci mille domande sul senso della guerra sul perché della guerra e noi psicosocialisti in particolare appunto sulle strasce del pensiero di Pagliarani intrapreso con Fornari come vi diceva Michos sul tema della guerra atomica in particolare ci troviamo ora a porci lo stesso interrogativo che già nel 1932 Einstein pose a Freud in una lettera questo interrogativo ve lo voglio proprio leggere perché è l'interrogativo di oggi non è solo l'interrogativo di due eminenti personalità del 1932 ma è l'interrogativo che ci poniamo qui anche in fondo questa sera è il tema di questa sera Einstein chiede a Freud in una lettera esiste la possibilità di guidare lo sviluppo psichico dell'uomo in misura tale da difenderlo dalla psicosi dell'odio e della distruzione è la domanda di oggi è una domanda una domandona terribile infatti è un carteggio molto interessante molto noto molti di voi l'avranno letto e comunque è interessantissimo si trova su internet eventualmente ed è molto interessante la risposta di Freud perché è anche una risposta molto umana non è solo la risposta dello psicanalista perché Freud si difende da questa domanda come ci difendiamo tutti noi quando ci si pone questo interrogativo e scrive mi sembrava un compito pratico che spetta risolvere agli uomini di Stato cioè Freud dice andiamoci piano con questa domanda che è un po' impegnativa insomma ecco poi però nel corso della risposta che vi voglio sintetizzare perché è veramente molto molto interessante dice però forse tu Einstein mi stai chiedendo un parere come psicologo allora vi dico che una prevenzione sicura della guerra è possibile solo se gli uomini si accordano per costituire un'autorità centrale pensate com'è come dire attuale questa risposta e gli elementi che tengono insieme una comunità sono due la coercizione violenta e i legami emotivi tra i suoi membri ne parlavamo prima siamo siamo sempre qua Freud tra l'altro che non era ottimista assolutamente rispetto alla domanda che gli poneva Einstein gli dice lei si meraviglia che sia tanto facile infiammare gli uomini alla guerra e presume che in loro ci sia effettivamente qualcosa una pulsione all'odio e alla distruzione di nuovo non posso fare altro che convenire con lei senza riserve quindi gli dà ragione poi qui sviluppa tutta una concezione che è molto tipica di Freud parlando della guerra parla di Eros e di Zanatos parla del principio di vita e del principio di morte però introduce un concetto che è molto importante e anche un concetto che ci dà speranza dice da tempi immemorabili l'umanità è soggetta al processo dell'incivilimento cioè della cultura dobbiamo all'incivilimento il meglio di ciò che siamo divenuti e buona parte di ciò di cui soffriamo or bene e qui concludo e mi fermo qua perché vorrei fermarmi su questa considerazione di Freud or bene dice poiché la guerra contraddice nel modo più stridente a tutto l'atteggiamento psichico che ci è imposto dal processo civile dobbiamo necessariamente ribellarci ribellarci dice Freud ribellarci contro di essa semplicemente non la sopportiamo più io credo che questa affermazione di Freud sia importantissima ma sia da un punto di vista scientifico sia da un punto di vista umano e ci dice tutta la passione anche dello scienziato e dello psicanalista e io su questa frase non la sopportiamo più mi vorrei formare magari poi ho altre due cose ma se si fa un altro giro le riprendo dopo grazie 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 di questi contributi che ci portano già dentro degli aspetti importanti parole importanti guerra come fa quindi darei adesso la parola a Riccardo va bene grazie intanto ho messo ho fatto mettere questa immagine perché è un autoscontro dove non c'è nessuno e c'è un un sole acido ecco quindi mi sembrava che rispecchiasse bene questa nostra questo nostro evento ecco e quindi è arrivato Musumar è arrivato Romano quindi a questo punto ci siamo tutti possiamo valutare per inciso se far partire dopo di me la musica e aspettare un attimo con Gad che forse ci può stare va bene ok quindi ci sei a questo punto poi ci dirai due cose su quello che sentiremo ecco ci ho detto taglio magari alcune cose che avevo scritto però direi che il mio intervento si sviluppa lungo due direttrici un po' leggo e un po' non leggo e vediamo quanto casino riesco a fare ecco comunque in qualche modo il primo tentativo che faccio la prima direttrice è quella di esaminare il contesto di pagliarani fornari che relativamente alle loro riflessioni sulla guerra cioè siamo negli anni 60 approssimativamente nella prima parte degli anni 60 e sostanzialmente loro si impegnano iniziano a pensare ad un gruppo anti-H cioè quindi c'era una fortissima investimenti degli americani dei sovietici e dei francesi nel nucleare questa cosa anima pesantemente la comunità pubblica la discussione pubblica e loro milanesi diciamo poi vedremo quanto è importante Milano rispetto a questa fase ecco loro iniziano a porsi il problema di che cosa possono fare gli psicologi quindi è una psicologia che inizia a uscire dal lettino dello psicanalista inizia a non essere più una psicologia ancorata e chiusa nel diciamo così per semplificare nel fluidismo storico del lettino ma inizia a essere una psicologia che si pone dei problemi sociali con ambivalenza non con scientificità la scientificità arriverà dopo ma si iniziano a porre un problema della presenza sociale della psicologia e così nasce questo gruppo anti-H di cui io vi parlo proprio rapidissimamente e illustro quelli che sono per così dire due o tre considerazioni del ciò che c'è intorno a Fornari e a Pagliarani ecco non sono gli unici c'è un contesto mi soffermerò in particolare sugli psichiatri gli psicologi ma in qualche modo riguarda tutta la comunità degli anni sessanta dei primi anni sessanta la seconda parte della comunicazione molto breve assolutamente molto breve è proprio la comunicazione pubblica cioè la comunicazione pubblica noi nella usuale rappresentazione che avevamo perché io non ce l'ho più erano i giornali cioè quindi da una parte c'era la politica dall'altra parte c'erano i giornali ecco quindi l'operazione che ho fatto in onore a un primo lavoro che avevo fatto da neolaureato è stato quello di fare un'analisi di contenuto di un mese cioè di due quindicine del Corriere della Sera di analisi proprio degli articoli comparsi ecco quindi poi vi faccio vedere due numeri ma ecco era quello in qualche modo del salto tra gli anni sessanta e oggi ecco quindi credo che possa essere interessante e veloce andiamo avanti parto con un'immagine perché mi piaceva dare questa idea e è l'attollo di Mururoa ecco l'attollo di Mururoa è un meraviglioso attello attello nel Pacifico dove i francesi ci facevano scoppiare le bombe H sinteticamente la Francia è una delle tre potenze nucleari e aveva scelto il Pacifico poi questa cosa fate conto che in più o meno in dieci anni i francesi fecero scoppiare 193 detonare si dice meglio 193 ordini di cui 40 di questi in atmosfera gli altri sott'acqua quindi questo impestò ovviamente e impesterà per centinaia e migliaia di anni la zona non sarà abitabile ci furono poi proteste e i francesi in qualche modo compensarono nelle popolazioni locali gli americani tra il 45 quando hanno buttato giù le bombe Hiroshima e Nagasaki e il 92 hanno condotto 1032 esperimenti militari con materiale fissile cioè quindi facendo esplodere varie cose in vari posti degli Stati Uniti stessi circa 400 esperimenti sono negli anni 60 40 di media all'anno cioè più o meno un poco uno di meno della settimana ecco probabilmente rispettavano le vacanze Natale e non so che cosa quindi gli impegni nucleari degli Stati Uniti sono enormi gli impegni nucleari dell'Unione Sovietica uguali cioè quindi i sovietici probabilmente un filino più poveri e fanno un po' meno ma fanno 230 esperimenti negli anni 60 con una media di circa 25 all'anno uno ogni 15 giorni quindi questo era il contesto nel quale in Occidente si apre la suggestione del nucleare io oggi ritengo che siamo in una condizione analoga cioè nel senso che il nucleare non è nucleare ma è un po' arate è una guerra un po' arate ma ho come questa sensazione di una continuità indiscussa tra una guerra e l'altra ecco quindi non è la grande esplosione dove muoiono tutti ma è un elemento di continuità che mi ispirava rispetto a questa analogia vediamo un po' cosa dicevano i nostri cioè il Pagliarani e Fornari sostanzialmente loro lanciano quest'idea di questo gruppo anti-H e proprio un gruppo fisico con tanto di iscritti un regolamento e così via cioè quindi cose un po' irrealistiche viste con gli occhi del poi però ecco pensate concretamente cioè quindi degli psicologi che non fanno solo gli psicologi ma si impegnano socialmente il dicono nasconderci questa realtà quindi quella degli esperimenti nucleari per occultarla ai nostri occhi e dalla nostra ragione per non metterla in rapporto con la nostra esperienza quotidiana sono difese contro le ansie dicevano meccanismi di negazione ed isolamento sottratti al controllo della coscienza viviamo come se fossimo simultaneamente svegli e addormentati per non farci spaventare dalla realtà che miliardi di uomini si vengono abituando a questa logica senza arrarmarsi e senza reagire è per il gruppo anti-H insopportabile e insostenibile quindi aprono sempre in questi documenti questi due documenti importanti aprono una riflessione sullo Stato quindi viene messo in crisi il dovere di obbedire allo Stato sovrano il pensamento radicale del rapporto tra cittadino e Stato lo Stato è il detentore del monopolio della violenza e del cittadino quasi quale depositario originale della sovranità quindi il cittadino ha la sovranità in qualche modo in onore del principio di questa nuova frontiera dicono sempre loro letteralmente chiunque marxisto cattolico scienziato artista lavoratore o padrone può dare il suo contributo nel nostro gruppo il gruppo anti-H sostanzialmente parlano di deumanizzazione ecco questa parola che loro spiegano molto con quello che dicevo prima di questa forma di alienazione e così via ecco io oggi mi risentirei di parlare di deumanizzazione e parlano della necessità di reumanizzazione cioè parte interessata e responsabile cioè la guerra atomica è una responsabilità individuale cioè non è delegata non può più essere delegata alla politica perché la politica non è in grado di reggere questo tipo di cosa risparmio vi risparmio alcune cose un po' perché sono state dette un po' perché cerco di risparmiare un paio di minuti ma sostanzialmente l'ultimo concetto importante che portano e che secondo me vale ancora oggi è che dicono che non lo dicevano allora non vige più la regola del vincitore e vinto ma la regola del vincitore vincitore o del vinto vinto cioè o si vince tutti o si perde tutti questo è il problema ecco il problema quindi è si porta a una sua dimensione etica ampia profonda e così via e siccome parla di vinto vinto mi era venuta in mente una poesia che conoscevo e che vi recito pur non avendone le qualità ma una poesia di Brecht che dice in cinque righe che vi leggo che è la guerra che verrà questa poesia dice la guerra che verrà non è la prima prima ci sono state altre guerre alla fine dell'ultima c'erano vincitori e vinti fra i vinti la povera gente faceva la fame fra i vincitori faceva la fame la povera gente ugualmente questa è la posizione del Papa per essere molto banale e molto senso quindi e qui ho finito se volete una prima parte cioè di collocare sostanzialmente i nostri due personaggi in una concezione disciplinare ma anche etica cioè questo è un aspetto secondo me irrinunciabile ed è la crisi della frammentazione di oggi ma andremo su un altro discorso ecco quello che dico è che Pagliarani e Fornari non nascono per caso cioè loro sono milanesi e Milano è il centro di moltissime cose che adesso accenno rapidissimamente una prima cosa è intanto un riferimento che esplicitamente loro fanno rimanda all'antipsichiatria inglese sostanzialmente rimandano all'Ing rimandano a Cooper rimandano a un mondo sostanzialmente che non nasce in Italia ma che apriva le comunità terapeutiche iniziava a considerare la psichiatria in un modo un po' diverso ecco quindi Pagliarani e Fornari si riferiscono agli inglesi in termini di prima battuta sono psichiatri sono per così dire e quindi culturalmente vicini a loro ecco diciamo quindi però il contesto italiano è molto più ricco cioè in Italia poi nello stesso periodo si apre la storia di Basaglia ecco che la ricordo perché è giusto ricordarle perché altrimenti collochiamo questo Pagliarani o questo Fornari in un ectoplasma del nulla ecco io non sopporto le discipline non ancorate socialmente storicamente economicamente quindi questa è la ragione per cui lo riprendo quindi Basaglia che cosa fa apre gli ospedali psichiatrici ovviamente aprendo gli ospedali psichiatrici diventa insopportabile tutta una serie di critiche ecco fate conto che lui vince un concorso in università ecco quindi invece di fare l'accademico bello sereno e critico ecco sostanzialmente lascia il posto in università e va a Gorizia quindi gestisce apre l'ospedale di Gorizia la città eccetera eccetera qui lo dico perché siamo in ambiente degli psicologi quindi insomma alcune di queste cose è doveroso se non altro se non ricordarsene almeno accennarle e quindi a Gorizia tenta di fare quanto aveva fatto Jones che era un inglese in Inghilterra dieci anni prima cioè quindi non è originale ma in qualche modo apre un versante italiano importante che è il cambio della normativa e vi risparmio altro ve ne cito un altro è Napolitani lo cito perché è il conflitto con gli psicanalisti ortodossi la SPI la società italiana di psicanalisi quindi questo Napolitani sostanzialmente è un lavora al servizio di gene profilassi mentale della provincia di Milano aveva un casino di psicotici intorno organizza questi psicotici e questi psicotici iniziano a lavorare e a risultare meno psicotici di prima quindi si apre tutto un versante della riflessione sulla psicosi e su chi è psicotica e chi non è adesso ve lo risparmio faccio qualche suggestione ma e quindi lì si apre proprio il versante non tanto teorico ancora ma dell'impegno sociale cioè quindi questo aprirà una riflessione profonda all'interno degli psicanalisti gli psicanalisti si divideranno e 10 anni dopo 15 anni dopo nasce Coirag e questa Coirag è quella che si occupa istituzionalmente degli incontri di gruppo delle dinamiche di gruppo ecco però tanto per capirci nasce in ospedale con gli psicotici ecco un terzo elemento che voglio ricordare è nell'area nostra nell'area della psicologia del lavoro cioè il lavoro e la psicologia io ho scritto sulla storia della psicologia erano i camici bianchi degli psicotecnici ecco quindi questa era la psicologia degli anni 50 degli anni 60 prevalentemente fatta nelle grandi aziende univano gli esami psicotecnici con le appartenenze politiche e da lì veniva fuori una valutazione globale il lì c'è l'esperienza per così dire molto poco imprenditoriale ma socialmente molto importante che è quella di Olivetti che fu un pessimo imprenditore lo dico con con affetto nei confronti dell'icona ma questo Olivetti lascia spazio ecco quindi nell'ambito dell'Olivetti si aprono delle esperienze estremamente interessanti che vengono condotte da in primo luogo da Musatti che viene ospitato perché è ebreo e quindi va viene riparato sostanzialmente per guadagnare dei soldi in Olivetti ma poi anche da da Novara da da Rozzi da una serie di persone che connoteranno matematice psicoanalitica peraltro che connoteranno lo sviluppo di una psicologia del lavoro più fenomenologica diciamo così sulla sull'alienazione operaia sui lavori di gruppo sulle macchine giostre e così via ecco quindi lo ricordo perché non era semplicemente il contesto clinico ecco ma erano anche i contesti nostri diciamo così guardo il Cesare Canet che è qua e Torino vuol dire e poi vuol dire anche la sociologia del lavoro vuol dire per esempio Bonazzi vuol dire Gallino Luciano Gallino cioè vuol dire Arisa Cornero cioè quindi il contributo portato da dei signori che o sono vicini all'Olivetti ma anche non vicini all'Olivetti sono prevalentemente di matrice sindacale comunisti come Arisa Cornero che poi diventeranno degli ordinari importanti di storia del lavoro ecco tra questi poi a Roma Arisa Cornero avrà un allievo che è Domenico De Masi che tuttora ancora Arzillo è presente nello schermo ricordo un'ultime due cose proprio rapidissimamente uno è l'istituto Agostino Gemelli Musatti cioè che è un dove viene sostanzialmente qui c'è un francese che si chiama Coensea che per così dire convince la provincia di Milano a dare dei soldi a Musatti e a Gemelli e Gemelli che era un personaggio interessante ecco questa volta non frega Musatti diciamo detto sinteticamente ecco quindi questo istituto che nasce pieno di soldi dove un casino di giovani prendono delle borse di studio importanti cioè che gli permettono di campare e vengono sviluppati nel Icon è la rivista di riferimento vengono sviluppati un primo grande sforzo interdisciplinare dello sviluppo della psicologia sociale della sociologia della comunicazione nasce lì quello che poi sarà l'osservatorio di Pavia sulla comunicazione politica la filmologia la semiotica la stessa psicanalisi i fondatori quindi fanno un'operazione che è in qualche modo la trasformazione di sentimenti sociali e culturali in infatti scientifici cioè la rivista Icon è una rivista squisitamente scientifica e i giovani e anche meno giovani che lavorano lì hanno i soldi per fare ricerca e questo credo che sia proprio il figlio di quell'epoca ricordo altre due cose semplicemente le ricordo in 20 secondi una le ricordo perché rimando nel mondo cattolico una è l'esperienza dell'isolotto e l'altra è Don Milani di Barbiana quindi loro non sono degli psicologi non sono degli scienziati non sono niente ma rappresentano delle istanze assolutamente importanti per quel periodo sia in termini pedagogici sia in termini di comunità di quella che poi diventerà anche di cui si occuperà anche Dario Romano e altri psicologi della generazione precedente alla mia della psicologia delle comunità ecco quindi questo è dove loro nascono cioè questo è loro dove loro e qui ho finito la prima parte in una vi faccio se mi mettete su l'unica diapositiva su cui vi annoio un attimo e e la vediamo allora il mentre arriva la diapositiva perché la diapositiva perché questa perché questa piccola analisi questa piccola analisi perché sostanzialmente questi intellettuali questi accademici degli anni 60 no poi arriverà al 68 cioè quindi 68 arriverà proprio anche in onore a questi movimenti che si aprono prima ma sostanzialmente hanno un impegno pubblico hanno un impegno diretto pubblico insomma e la comunicazione pubblica è una comunicazione che in qualche modo credo che abbia oggi un momento di profonda crisi poi magari non so se Gad ci dirà qualcosa lo seguo nei suoi articoli sul sul fatto quindi ecco però l'aspetto la cosa che abbiamo fatto è stata questa abbiamo preso due quindicinate due settimane a novembre due ad aprile e a novembre non a dicembre per la banale ragione che dicembre poi è un mese di consumistico quindi abbiamo preso novembre invece ho preso aprile perché aprile c'è dentro la Pasqua ecco quindi c'era una ragione strumentale ho detto prendiamo un periodo di pace che è la Pasqua le comunicazioni totali sono quello che vedete sono in buon equilibrio tra novembre e aprile gli articoli sono in buon equilibrio tra novembre e aprile la cosa che inizia invece a essere estremamente interessante è le fotografie tra novembre e aprile cioè la comunicazione iconografica cresce moltissimo è una comunicazione dove queste foto ovviamente non sono le piccole foto ma sono le grandi foto quelle che occupano quindi o quattro o cinque o tre colonne ma alte quindi sono quindi c'è una crescita della comunicazione iconica cioè quindi di una comunicazione subliminare che è estremamente interessante perché apre lo scenario di una comunicazione diversa e ho fatto due ipotesi che la cosa è voluta e che la cosa non è voluta la cosa si è voluta è un problema e se non è voluta è la verità non so cosa dire però potrei fare delle ipotesi ma non le faccio perché sarebbe una suggestione inutile in questo momento quello che invece è interessante la seconda parte è che abbiamo classificato questi articoli con un po' di superficialità devo dire con l'aiuto anche di una di un paio di giovani persone che sono qui e ci abbiamo lavorato un po' è affidabile non è attendibile al 100% ma è di buona affidabilità ecco la metà degli articoli sono o cronaca di guerra o foto cioè quello che colpisce è che in qualche modo di tutto ciò che finisce sul giornale la metà sono o immagini pesantemente tragiche oppure sono cronaca di guerra cioè l'immagine della foto l'immagine dei cadaveri le descrizioni analitiche di un assalto di qua o di là e così via ecco quindi noi questo è il Corriere della Sera cioè quindi Repubblica non cambia molto insomma non l'ho vista ma credo che non cambi molto ecco la metà della comunicazione il 44% della comunicazione è cronaca cronaca di guerra non è cronaca il 37% se vedete la prima colonna in verticale e sono le dichiarazioni del sistema politico il sistema politico è nazionale internazionale la Meloni dice Putin dice quest'altro dice eccetera eccetera quindi è una comunicazione per così dire che ha il fine di precisare qualcosa dal punto di vista politico non dal punto di vista di vario tipo di vario grado dalla Fonderlain a chi volete voi il terzo le abbiamo chiamati articoli di commento o di costume ma sostanzialmente sono quelli che noi abbiamo ritenuto talvolta con delle difficoltà di classificazione degli articoli di commento e di riflessione ecco cioè sostanzialmente quello che emerge è che la riflessione quasi non esiste e quindi non c'è riflessione non c'è il pensare l'elaborare sulla comunicazione pubblica cioè un giornale importante italiano non c'è nulla di questo questa cosa tende a decrescere cioè tende ulteriormente a a labilizzarsi cioè gli articoli di commento diminuiscono e la dichiarazione del sistema politico diminuisce cioè resta pesante la cronaca ho finito vi do un'ultima informazione che mi sembra così suggestiva più che altro ed è quanti articoli quanti articoli hanno riguardato la pace quindi possiamo avere sbagliato possiamo averne classificato uno o due diversi ma sostanzialmente nel periodo di novembre ci sono solo tre articoli che riguardano non tanto la pace ma riguardano che Scholz vede Xi Jinping a Pechino cioè quindi sono articoli di politica però centrati sulle possibili sui possibili effetti di accordi di pace e così via sono tre gli articoli nel primo periodo nella prima parte nella seconda sono quattro cioè quindi c'è stato un incremento del 25% anzi del 33% questi quattro questi quattro sono Xi Apre Zelensky dialogo Xi Macron quindi sono di cronaca ma riguardano ovviamente che cose esattamente dicono i cinesi dice Macron dice il Papa quasi scompare il Papa è presente con tre contributi su 114 cioè la comunicazione inerente il Papa peraltro non dico inerente il Papa analeticamente ma dove si parla della posizione del Papa è i tre articoli su 114 ecco qui mi fermerei grazie grazie di questa panoramica ma anche credo di questo grosso approfondimento che Riccardo Zuppo ha fatto e anche su questo credo dati penso ci saranno molte riflessioni a proposito che possiamo poi condividere ma a questo punto per mantenere anche un po' i ritmi che ci siamo dati chiamerei al nostro tavolo Romano Musumarra mi avrebbe da dire il maestro posso chiamarli così? prego accomodati sì però magari lui non fa un'introduzione pensavo però lo portiamo qua al tavolo con noi va bene benissimo però al tavolo sì va bene ok allora vediamo la sua opera ringraziandola di essere qua perché non l'abbiamo fatto prima e poi da questo diamo a lei la parola ringraziandola 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 Grazie. Grazie. Ah, lasciamo l'immaginazione. Proviamo con la chiavetta, proviamo. No, ma ce l'abbiamo, ma se non partiamo dalla piattaforma... Adesso possiamo provare a condividere così, eh. Lascialo qua. Adesso è online, questo qui, ce l'avete online, allora è meglio sulla chiavetta. Ah, non so che sia. Eh, sì, la chiavetta, sì. No, è una carica, possiamo provare così, ma a casa secondo me. L'inizio l'abbiamo capito. Che non è di poco conto, che non è di poco conto, avendolo sentito. Così lo studiate, così. Questa mi sembra andata. Grazie. 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 Grazie a questo punto, dai, la parola. Grazie a voi. Al prima di tutto grazie dell'invito a Riccardo e all'organizzazione, per me è un onore e un privilegio. Sarò breve, dopo ho preso qualche appunto. Dunque, questo lavoro è nato quando è cominciata la guerra, ma era nato già un po' prima, del febbraio 2022. Nel senso che, come diceva Riccardo l'altro giorno, io ho passato una gran parte della mia vita all'estero, per cui continuo a guardare la rassegna stampa internazionale. E nei mesi precedenti, la guerra, io mi rendevo conto, io abito a Roma da quattro anni, mi rendevo conto che nessuno ne parlava, nessuno ne sapeva nulla. Cioè, questa è la mia esperienza personale. E ne parlavo con gli amici. E dicevo, ma che succede? Sì, c'era già la guerra dal 2016, non mi ricordo, più quando era cominciata. Comunque non era assolutamente comunicata, probabilmente. Il motivo non l'ho mai capito, però sicuramente nel momento in cui poi la guerra è scoppiata, è riscoppiata, io ero particolarmente colpito perché per me è stata una doppia emozione. E dico, era lì, era già lì, adesso improvvisamente tutti ne parlano, tutti piangono, tutti urlano, scrivono. E allora, ecco, sull'onda di questa emozione ho cominciato a pensare. L'unico modo per esprimersi per un musicista è suonare, scrivere, per cui, a scrivere una, qualche cosa, una musica, e ho cominciato a lavorare a questo progetto. Poi, una volta finito, mi sono reso conto che la musica non bastava, perché quando mio figlio l'ha visto la prima volta mi ha detto, ah, potrebbe essere un bel film dell'orrore, papà. E allora ho capito che forse ci volevano anche delle immagini, e io non è la mia specialità, per cui mi sono messo con un amico, Alessandro Parenti. Sono andato nel Mare Nostrum di internet, a grande illusione, ho trovato tutte le immagini libere che c'erano sull'Ucraina, in quel momento ce n'erano tante, e ho abbinato le immagini alla musica così come io la sentivo, alternando, come avete visto, le notti e il giorno, i proiettili, i uccelli, i carri armati, e tutto quello che succedeva, l'esodo, i profughi, e le notizie, eccetera, eccetera. Diciamo che alla fine questo lavoro per me è stato anche un po' liberatorio, in certo senso. Poi insieme a questo mio collaboratore amico abbiamo deciso di mandarlo a qualche, così, sul consiglio di un altro amico regista, mi ha detto, ma perché non fate i festival di cortometraggio? L'abbiamo mandato un po' a tre o quattro festival, e a Berlino ci hanno risposto che gli era piaciuto, allora provvisamente è diventata per me una cosa più importante di quello che era già per il fatto che c'erano delle immagini. Tutto questo per me oggi rappresenta, è difficile continuare a vederlo, perché per me rappresenta un'emozione forte che ho provato per lungo tempo, perché ci ho lavorato sopra, e mi rendo conto di quanto... di quanto a volte le persone, la gente, non si renda conto di quello che sta succedendo veramente, e quanto sia difficile rendersene conto, e forse in questo, probabilmente io adesso non voglio fare nessun tipo di commento politico, però forse c'è una responsabilità, in qualche modo a volte è dura non essere complottisti, io non lo sono, però voglio dire, c'è qualcosa che non funziona nella comunicazione in generale, perché c'è troppo e troppo poco, e secondo me in qualche modo bisogna intervenire, bisogna, bisognerebbe fare qualcosa, perché questo cambi. Alla fine del film c'è la porta di Kiev, e subito dopo c'è questa frase in inglese, che forse non tutti hanno capito, che per me era molto importante, che ha scritto un mio carissimo amico con cui io lavoro, scrive le parole per me. Siccome da un certo punto ho pensato anche che in fondo siamo un po' tutti responsabili di quello che sta succedendo, io compreso, quello che dice questa frase è se il cielo fosse uno specchio, dove vedere i nostri peccati, non alzeremo mai più lo sguardo. È una frase che per me rappresenta un po' anche quello che io penso di me stesso in prima persona. Diciamo che questo è tutto quello che posso dare come contributo da parte mia. Grazie, grazie di questo prezioso contributo sia artistico che anche direi proprio personale, perché si sente molto il trasporto di quello che ha detto. A questo punto, parlando di comunicazione e giornalismo, posso lasciare anch'io se preferite il posto, benvenuto a Garda Lern, che forse ci dà delle letture, delle risposte. Non aspettatevi nessuna risposta, anche perché mi sento pesce fuor d'acqua. La parola ucraina è venuta fuori dopo le 10 di sera, è tornata. Prima c'è stato tutto, come dire, un racconto della vostra storica esperienza, mentre io posso soltanto improvvisare sul come la guerra di oggi, a differenza che con modalità diverse dalle guerre del passato, sia vista da una società sazia, direi, o per essere più precisi sia esorcizzata da una società sazia come la nostra, perché la risposta che Romano Musmaro ha avuto da suo figlio, che probabilmente si diletta con i videogiochi come tutti i suoi coetanei, è comunque la risposta di chi, anche di fronte alla potenza di questo accostamento tra suoni, musica e immagini, vede, come dire, una rappresentazione della guerra che gli è già familiare da prima che questa guerra scoppiasse. Esorcizzare è qualcosa di molto necessario e che instaura un nostro rapporto con la guerra, per cui le macerie sono quei frammenti che abbiamo visto frantumarsi ed esplodere nel video, che è molto diverso dall'esperienza vissuta dai nostri nonni o genitori che hanno vissuto, ad esempio, la Seconda Guerra Mondiale, quella a cui il clima, diciamo, novecentesco, bellico, che precede addirittura la Seconda Guerra Mondiale, a cui si riferiva il dialogo Einstein-Freud, è tutt'altra esperienza. Io che da quattro anni sto raccogliendo testimonianze di donne e uomini che hanno vissuto l'esperienza e che hanno fatto la scelta partigiana tra il 43 e il 45, innanzitutto la prima cosa, denominatore comune a quasi tutte, le ormai centinaia di persone che ci hanno raccontato, la prima cosa che emerge è molto banale e concreta, è la fame. Quindi il ricordo più forte da vecchi di quella gioventù era il ricordo di una fame feroce che ti attanagliava tutti i giorni. questo non c'è. Il nostro rapporto con la guerra è il rapporto, ripeto, di una società sazia, in cui qui dico, per gente che fa il vostro lavoro, delle assolute banalità, ma credo che siano necessarie poi per inquadrare l'Ucraina, l'eventuale novità ucraina che ci ha piombato addosso, viviamo di appunto rituali e rappresentazioni di queste guerre. Non so se qualcuno di voi, come il sottoscritto ieri, si trovasse allo stadio di San Siro, ma forse si è visto anche in televisione che cosa hanno esposto le due opposte tifoserie. Dalla curva nord dell'Inter si sollevava un gigantesco guerriero medioevale con la scritta Victoria Nobis Vita, che è una scritta molto adoperata, diciamo, nei motti militari. Dalla curva sud dei milanisti si rispondeva con una muraglia e con un'enorme scritta all'assalto. Allora, lo sappiamo benissimo, si è discusso a lungo il libro di Alessandro Dallago sulle descrizioni di una battaglia, i rituali del tifo calcistico, risale al 2001. Credo che siano molto cambiate le cose, però, non soltanto dai tempi della mia infanzia, in cui allo stadio non era neanche concepibile che un tifo pur accesissimo e anche così il sublimare intorno al prato la dinamica amico-nemico potesse prendere forme così, militarizzate, così enfaticamente belliche. ma nel frattempo mi sembra, rispetto anche al lavoro di Alessandro Dallago e di tanti altri, che l'idea ottimistica che quello fosse lo sfogo, che meno male che la guerra si fa per simulazione all'interno dello stadio e poi si torna a una vita normale, in diversi paesi dove le tensioni sociali e le contrapposizioni di natura etnica erano particolarmente acute, invece è stata già smentita. L'esempio più classico è quello dei Balcani, come sapete, le tigri di Arcan che hanno fatto la pulizia etnica sono nate da quelle curve, ma io penso anche a un luogo, da questo punto di vista, di studio, di laboratorio che mi è più familiare perché ho una buona parte della mia famiglia lì, sto parlando di Israele, ma che credo diventi interessante anche per noi perché anche quella è a suo modo una società satria come la nostra e perfino lì la tifoseria del Betar, la squadra di calcio di Gerusalemme, è diventata attore politico oggi protagonista nelle frange suprematiste dell'estrema destra, a partire dalla rivolta di quella tifoseria anche soltanto alla ipotesi che nella squadra di cui erano tifosi potesse giocare un calciatore arabo israeliano, si è poi passati allo squadrismo vero e proprio che è a un'organizzazione politica che ha un suo certo consenso. Perché dico che quello è un laboratorio interessante? Perché lì c'è anche Tel Aviv ovvero la Miami Beach del Mediterraneo, la città con la movida più divertente, la città più libertina e libertaria, la città in cui gli psicanalisti fanno affari d'oro che si trova isola felice a 90 chilometri da Gaza un niente quindi da una situazione radicalmente e drammaticamente altra ma si può come dire vivere facendo finta che tutti i giorni che quella cosa non esista e ancora più vicino perché proprio alla periferia di Tel Aviv si trova Neibrak ovvero sia un ghetto di 200.000 abitanti ormai con una densità fortissima proprio ammucchiati uno sull'altro nelle case anche perché sono le famiglie più prolifiche numerose sul piano demografico del Mediterraneo degli ultra autodossi integralisti messianici che a loro volta come dire costituiscono un compartimento stagno separato vivere accanto non comunicando se non nella forma della guerra non del sano conflitto ho apprezzato diciamo la distinzione tra la nozione di conflitto e quella di guerra qui arriviamo io credo a noi e alla nostra abitudine acquisita anche se non dichiarata che essendo noi civiltà sazia e quindi civiltà superiore siamo in grado di sopportare una guerra che sia distante e una guerra che da noi sia praticata in forma pulita cioè schiacciando dei pulsanti che non implichi lo spargimento di sangue vero perché ci basta il sangue di ketchup dei film pulp e dei film di guerra talmente realistici a cominciare dallo sbarco in Normandia che ha raccontato nei primi venti minuti di Salvato il soldato Ryan da Spielberg da avercela già fatta vivere ma su pellicola su esperienza non concreta senza la fame senza le macerie con l'idea che gli F35 costeranno molti soldi ma fanno in modo che i nostri possano fare la guerra dall'alto dei cieli in questo proseguendo la fase conclusiva della seconda guerra mondiale sia con i bombardamenti devastanti sulle città nemiche che poi con il culmine delle bombe atomiche che hanno cominciato a spostare altro motivo della nostra rimozione insieme al fatto che siamo una civiltà mi riferisco in particolare all'Italia con un'età media particolarmente elevata una popolazione anziana portata quindi al particolare all'idea di una dimensione provinciale per cui molto malvolentieri si guarda di là dei nostri confini noi abbiamo vissuto una guerra in Jugoslavia cioè proprio al nostro confine sostanzialmente ignorandola non parliamo della sponda sud del Mediterraneo dove tutto avviene in una forma ancora più diretta l'idea è quelli sono barbari noi siamo civili ci interessa soltanto proteggerci e sopravvivere vedevo prima il confronto novembre aprile 22 aprile 23 lì il confronto vero sarebbe stato necessario farlo con la primavera del 22 quando si è drammatizzato l'argomento aria condizionata e il riscaldamento dell'inverno prossimo lì si è cominciato a sentire una minaccia al nostro stile di vita che poi si è rivelata parziale sopravvalutata drammatizzata anche per giustificare scelte politiche che sono state compiute ecco io credo che dentro a questo bisogno di esorcizzare di dentro a questo bisogno di esorcizzare si verifica e qui lo si può fare appunto perché i tempi della guerra ce lo hanno consentito ce lo stanno consentendo un graduale adattamento io credo che la gente si stia abituando quindi sdrammatizzi che si dà luogo non soltanto alla rimozione dei conflitti che avvengono sul terreno non alla portata diciamo della nostra esperienza di vita quotidiana ma anche la assuefazione alle dinamiche che questi conflitti comportano tra le altre c'è il sospetto col quale si alimenta l'idea che chi parla di pace in realtà sia un infiltrato sia un rappresentante del nemico anche perché tutte le guerre che noi abbiamo dentro alla nostra esperienza e alla nostra conoscenza le abbiamo come dire interpretate attraverso lo schema dei giusti e degli ingiusti di chi aveva ragione e di chi aveva torto e io non me ne pento affatto se no non farei quel lavoro che sto facendo sulla memoria partigiana che credo che sia preziosissimo anche per studiare come diventa come dire non scontato quali sono le motivazioni che ti possono portare in una situazione incognita e drammatica la scelta giusta senso di giustizia istintivo nei giovanissimi convenienza immediata perché non volevi vestire la divisa dopo il bando Graziani della Repubblica di Salò e quindi scappavi in montagna semplicemente perché non volevi fare quel servizio militare la questione sociale della fame che dicevo prima e dello sfruttamento le motivazioni sono le più varie ed è molto interessante andare a vedere come succede che si faccia la scelta giusta ma oggi le voci che avete citato voi avete citato Papa Francesco che parla appunto di vera e propria pazzia nell'escalation delle spese militari nelle politiche di riarmo alimentate dal conflitto in Ucraina già guardando all'idea che si tratti comunque di un conflitto periferico perché il conflitto principale già tutti prevedono che sarà in quell'oceano che già ha visto la bomba atomica e che ha la beffa di chiamarsi pacifico mentre sta diventando l'epicentro di quella che potrebbe essere la guerra definitiva Taiwan è annunciata ma potrà essere la guerra decisiva e se ci pensate c'è questo contrasto tra buoni sentimenti ammessi il Papa non lo si critica si dice fa il suo mestiere lasciamo che quel vecchio utopista continui così la nel consumo culturale artistico musicale figure pacifiste sono molto popolari riscuotono consensi vendono uno dei libri più venduti quest'anno è stato il libro di Gino Strada e anche qui uno penserebbe poi vedi i sondaggi e i sondaggi dicono che c'è una maggioranza di italiani che sarebbe contrario all'invio di armi nel conflitto su un tema che non è di questa sera ma anche chi un po' goffamente cerca di farsi rappresentante politico di questo sentimento oppure come il giornale in cui io lavoro in forme che non sempre mi piacciono anzi spesso mi trovano in dissenso ma vorrebbe anche lì in personale con tre i giornali in Italia tra virgolette pacifisti avvenire il manifesto e il fatto quotidiano totale di copie vendute alcune decine di migliaia questo sentimento molto popolare non trova adeguata rappresentanza vendono un sacco di copie libri di Carlo Rovelli il fisico molti di voi avranno letto che gli era stato goffamente revocato l'incarico di tenere l'Alexio Magistralis di inaugurazione nel lontano 2024 cioè con un anno e mezzo di anticipo buono si mettevano le mani avanti non sia mai che vada a ripetere delle cose che ha detto sul palco del primo maggio ricordando che il nostro ministro della difesa è stato fino al giorno prima un uomo un manager che guadagnava somme considerevoli lavorando per l'industria delle armi la cosa interessante nella lettera che poi è stata rettificata perché era come dire troppo imbarazzante la lettera di revoca dell'incarico a Rovelli è quel tono gentile e imbarazzato appunto con cui gli si rivolgeva il commissario governativo per il buc messo di Francoforte proprio dicendo non avrei mai voluto scriverlo ho grande stima del tuo lavoro spero che tu faccia ancora tanti libri ma soprattutto spero che tu capisca che non ho altra scelta perché perché siccome ci saranno le nostre massime autorità istituzionali a quella cerimonia come possiamo fargli ascoltare questa tua voce dovresti essere tu per primo a non volerle mettere in imbarazzo e quindi questa lettera che non avrei mai voluto scrivere mi auguro che non pregiudichi la nostra amicizia niente di personale a me veniva in mente quante di queste lettere scritte con questo tono possano essere partite nel 1938 all'indirizzo di colleghi che venivano allontanati dalla loro attività professionale dicendogli non sia mai non rompiamo la nostra amicizia ma tu capisci anche a te conviene adesso perché cito questo episodio perché credo che lo scivolamento lo sdrucciolare nell'adattarsi e nella sua effazione sia fatto di tante piccole cose atteggiamenti di questo tipo che nella popolazione anziana di questo paese possono arrivare a non dirselo diciamo esplicitamente ma in fondo ad accettarlo che sì se ci sono delle armi micidiali che consentono di tenere la guerra alla larga e di fare in modo che i nostri non ne siano direttamente coinvolti pazienza faremo finta di niente infrangere questo meccanismo è molto faticoso perché appunto l'idea del giramento del conflitto anziché del renderlo esplicito voi mi insegnate che è doloroso è molto spesso doloroso e comunque è un fastidio che si vuole dare e che probabilmente è giusto dare non credo nel caso nostro italiano che esista ma non credo che fosse così nemmeno un secolo fa un tema forte di nazionalismo italiano non siamo un paese di forti nazionalismi anche perché siamo un paese di piccole patrie di grandi campanilismi di secessionismi per cui il tema della nazione il tema della patria il tema dell'etnia italiana che pure è tornato fuori in questi giorni non credo che scaldi più di tanto gli animi dell'opinione pubblica ma quello del lasciateci in pace e se per stare noi in pace dobbiamo pagare qualche miliardi di euro l'uno degli F35 che volano lontano schiacci un bottone e quello che succede laggiù lo vedremo nei filmati e nei corti anche artistici indignandoci e battendo le mani a Gino Strada e a Carlo Rovelli e tanto più a Papa Francesco questo diciamo è il meccanismo di rimozione su quale mi auguro anche voi possiate lavorare grazie infinite dare adesso la parola a Diego Michoscia che forse sulla parola appunto anche pace come ci ha detto prima ci potrà dire qualcosa di importante grazie anche perché appunto ha dato una bella fotografia della nostra cultura nel convegno di Ariele che è stata ricordata io ho proprio detto che l'Europa aveva fondato il suo progetto di pace su Narciso cioè lasciateci in pace lasciateci godere in questo benessere però io credo invece che si possa lavorare sulla speranza il mio contributo vuole essere proprio su questo non su una speranza illusoria ma concreta perché questo è importante che anche il mondo della comunicazione oggi qui ben rappresentato a Gardner sia presente perché io credo che la psicologia è diventata una grande potenza oggi in tutte le scuole c'è uno psicologo scolastico che potrebbe fare molto di più su questi temi ma se pensiamo anche al mondo della comunicazione dei mass media come ha cambiato fenomeni sociali che erano radicati da secoli pensiamo ad esempio agli Stati Uniti negli anni 50-60 era uno stato razzista ma non razzista come mentalità magari lo sono ancora molti in molti istanti ma era nelle leggi però le manifestazioni di Martin Luther King ma soprattutto i mass media che a livello mondiale hanno portato una cultura per cui non era più accettabile il razzismo ha fatto sì che poi dopo un po' di anni è stato eletto un presidente di colore io partirei appunto da questo dato Franco Fornari scriveva appunto nella prefazione al libro Psicanalisi della Guerra che lui era rimasto sconvolto molto colpito dallo scoppio della bomba atomica su Hiroshima lì aveva capito che qualcosa doveva cambiare che era necessario dare un'accelerazione al processo di incivilimento di cui parlava Freud e questa cosa è entrata un po' nelle mentalità degli psicanalisti ma di tutti gli psicologi Anna Segal ad esempio un'importante psicanalista rivolgendosi alla comunità degli psicanalisti negli anni 70-80 diceva non parlare di pace e di guerra è un vero crimine un po' quello che ha detto il presidente Lula de Silva se non si parla di pace si alimenta la guerra questo l'ha detto poche settimane fa per cui è importante vedere quello che è stato fatto perché a mio avviso oggi abbiamo delle conoscenze molto più importanti più chiare rispetto a quello che aveva in mente Freud negli anni 30 sui meccanismi che portano alla guerra e anche sull'idea di pace vi faccio una sintesi molto breve perché credo sia più importante lasciare poi spazio al dibattito già negli anni 30 uno psicanalista Monica si era interrogato perché le persone vanno in guerra aveva attribuito la responsabilità alle capi paranoici lui aveva studiato la personalità di Hitler Mussolini individuando tratti paranoici maniacali però a mio avviso questo è un po' limitato perché le persone come avevano tratto Fornari in guerra ci vanno molto felici come dice nel libro Psicanalisi della guerra Fornari anche le persone più buone vanno in guerra perché si sentono spinte non dalla necessità d'oggio ma dalla necessità d'amore cioè dalla paura della perdita realo immaginaria di un oggetto d'amore primario indispensabile all'identità del gruppo altri studi che avevano come dire preso più corpo poi negli anni 40-50 sono quelli invece che denunciano il carattere maschile falli con la società patriarcale ad esempio un psicanalista tedesco Mitterlich aveva scritto un libro intitolato per una società senza padre in cui lui sosteneva appunto che era necessario superare un po' la dimensione del paterno basarsi su una società fraterna questo questo tipo di analisi di una cultura dominata da valori fallici maschili isperati appunto dal dominio dalla volontà di potenza in qualche modo viene ripresa anche nel libro di Hillman un terribile amore per la guerra potente in quel libro con l'immagine e quello sia anche vero del generale Patton sul campo di battaglia dopo la battaglia con i cadaveri ancora freschi gente squartata rovine dice che Dio mi perdoni io amo tutto questo però anche questo appunto è parziale noi vediamo ad esempio oggi tanti capi donne che sostengono con vigore l'idea di armare appunto gli ucraini e sostengono questa cultura rilanciata dai mass media che ancora è una cultura di mentalità di guerra i nostri buoni gli altri cattivi i nostri eroici gli altri mostri e io credo che queste siano controposizioni sbagliate come è sbagliato appunto che è la controposizione putiniani contro quelli che invece sono a favore della difesa dell'Ucraina personalmente credo sia giusto anche esporsi io credo che sia giusto che gli ucraini si difendano e quindi forse è anche giusto mandargli delle armi ma non è questa la vera controposizione la controposizione appunto tra chi vuole una cultura di pace e la testimonia nella comunicazione e chi vuole invece una cultura di guerra è un po' una controposizione simile a quella che il vecchio Conrad Lorenz retologo aveva messo giù come battuta di spirito in una delle sue ultime conferenze in cui aveva detto signore e signori una grande comunicazione da farvi ho scoperto l'anello mancante fare scimmie primitive e gli esseri umani intelligenti e dopo un po' di puzzle aveva detto siamo noi e su questa controposizione che noi ci dobbiamo spendere a favore di qualcuno cioè degli esseri umani che cercano di essere un po' meno mezzascimmie allora per essere meno mezzascimmie dobbiamo avere bene l'idea è chiare com'è che la psicologia è riuscita a portare qualche idea è chiara appunto andando un po' al di là del limitare la responsabilità ai capi non è la guerra di Putin andando un po' in là rispetto all'idea di dare la responsabilità a una cultura maschile patriarcale sicuramente è vero l'ex ministro francese secondo nel reale aveva detto qualche mese fa c'è in giro dopo testosterone anche questo è un elemento ma Fornari e Pagliarani avevano fatto un passo in più per quello noi di Ariere del Minotauri li consideriamo dei maestri importanti per il tema della pace perché avevano in qualche modo analizzato come il tema della violenza e della pace riguarda tutti noi in questo senso la regione musulmane siamo tutti responsabili perché dentro il tema Fornari appunto in psicoanalisi della guerra dice che la guerra è uno strumento di difesa per l'elaborazione paranoica del lutto nel senso che il lutto la dimensione della perdita del voto esistenziale riguarda tutti noi e avendo questa opportunità con una difesa di tipo scissione proiezione quindi proiettando la responsabilità su un nemico noi esorcizziamo la morte e abbiamo le illusioni di restare vivi e di far morire i nemici sono loro che si prendono la morte lo stesso Pagliarani nel coraggio di Venere aveva parlato appunto di qualcosa di simile Pagliarani Fornari aveva fatto l'analisi con Fornari e avevano poi attivato appunto questa ricerca comune nel gruppo anti-H aveva parlato delle condizioni di voti disagio che sono la base della ricerca dei conflitti ma come ricordava prima Elena ma la pace è conflitto la pace è un conflitto gestito in modo non violento appunto in modo meno da scimmie primitive e più da essere umani intelligenti ma il contenuto più importante di Fornari come vi dicevo nella presentazione dell'istituto Domeno Tauro è la teoria dei codici affettivi perché qui c'è anche un'idea di pace più chiara cioè quella di provare appunto in questa mutazione sappiamo come i cambiamenti nel cervello avvengono molto lentamente all'inizio devono essere cambiamenti culturali io credo ad esempio che una certa idea di rifiuto della violenza storicamente si sia un pochino incisa nel cervello come ad esempio se incisa l'idea della paternità sappiamo che la paternità è un'invenzione recente nella specie umana il materno è molto più radicato come ad esempio le emozioni le emozioni sono qualcosa di primitivo che esistono già a livello di specie comune dei mammiferi ma ad esempio il rifiuto di una violenza gratuita se ci pensate soltanto qualche secolo fa era una grande festa andare in piazza ad assistere a una persona bruciata viva ghigliottinata tutti ci andavano portandosi la merenda oggi se si proponesse qualcosa di questo genere penso che in pochi ci andrebbero con serenità perché forse qualcosa si è depositato anche geneticamente nel cervello umano allora noi dobbiamo capire come è possibile creare una cultura capace di togliere la guerra come opzione possibile nella gestione dei conflitti io credo che si possa fare appunto sfruttando un po' questa ricerca di fornare sui codici affettivi dove lui aveva visto che esiste una tendenza naturale all'integrazione che è appunto una tendenza che permette di valorizzare tutti i codici affettivi cioè tutti i punti di vista affettivi sul mondo il punto di vista del bambino che vuole in fondo la libertà la spontaneità uno spazio per il gioco per il sogno per la fantasia il punto di vista del materno che vuole dentro gli uomini e dentro le donne perché i codici affettivi prescindono dall'identità sessuale anche se ovviamente l'identità sessuale facilita una certa specializzazione il materno ovviamente vuole un mondo in cui nessuno soffra più vuole una cura per i più deboli ovviamente il gino strada era molto identificato con il codice materno mentre il codice paterno vuole una possibilità appunto che tutti rispettino le regole che ci sia molta imprenditorialità libertà autonomia quindi la cultura occidentale liberale in genere molto più vicino ai valori del codice paterno ecco purtroppo questi codici per la fragilità del cucciolo dell'uomo tendono a radicalizzarsi quindi non abbiamo solo culture fallocentriche castranti di padri autoritari abbiamo culture noi psicologi le conosciamo molto bene dove prevale un materno che non lascia crescere o culture come quella attuale dove sta andando al potere il bambino appunto come diceva Cattellero il bambino sazio la cultura dell'edonismo e del narcisismo allora è possibile io credo pensare dei progetti appunto progetti educazione alla pace che non siano solo progetti pensati sulle regole su tecniche di gestione pacifica dei conflitti ma che abbiano uno sguardo anche al mondo interno ma non soltanto come facciamo noi psicologi per segnalare perché noi psicologi appunto forse perché impariamo nel nostro lavoro la modestia la prudenza più la riduzione del danno che la cura miracolosa di solito ci limitiamo a illuminare l'altra faccia della luna la parte nascosta per esempio due o tre settimane fa Sergio Benvenuto una psicanalista in una trasmissione su Radio 3 tutta la città ne parla una trasmissione proprio sulla guerra in Ucraina di fronte a tutti di fronte a tutti che dicevano lo scandalo degli ucraini dei soldati ucraini decapitati come non ridiamo di fronte alla guerra Sergio Benvenuto ha detto so di scandalizzare ma per tutti noi la guerra è anche godimento che è un po' quello che diceva Ilman nel titolo del suo libro Un terribile amore per la guerra è vero è importante anche illuminare la faccia nascosta della luna ma è importante anche avere dei progetti per avvicinarci un po' di più agli esseri umani intelligenti e questi progetti secondo me devono vedere la sinergia del mondo della comunicazione in modo che esca da una difesa a priori di una pace a tutti i costi con la pace a tutti i costi purtroppo è vero l'Ucraina diventerebbe un satellite della Russia poi i russi prenderebbero appetito e andrebbero anche avanti magari ma è anche vero che se anche la guerra in Ucraina finisse come vogliamo noi con il ritiro dei russi possiamo stare tranquilli che tra un po' già un po' più in là e Taiwan cinesi americani stanno mettendo in pentola un'altra crisi prima o poi ce la becchiamo la bomba atomica se non ci impegniamo a portare verso gli altri progetti e questo lo possono fare gli psicologi secondo me insieme a tutte le persone di buon senso perché il sistema della comunicazione oggi non è solo nelle mani dei giornalisti ma nelle mani di tutti quelli che girano su internet che postano in quelli che appogliano dei blog è importante insomma muoverci verso una proposta che magari è coordinata anche dall'ordine degli psicologi che raccolga ipotesi strategie perché la psicologia come ci hanno insegnato a fornare e pagliare anni deve uscire dagli studi privati per andare verso il mondo nessuno di noi sta bene solo con se stesso abbiamo bisogno di stare bene in altri contenitori in quello della coppia in quello della famiglia allargata degli amici ma anche nella società perché se non funziona uno di questi contenitori in questo momento tra l'altro quello più allargato di tutti il nostro pianeta rischia di andare a pallino per la furia umana sia sul tema della guerra sia sul tema del clima e quindi è davvero importante che la psicologia si occupi anche di questo grazie grazie